Sono Claudio Pettinari, professore dell'Università di Camerino, chimico e curatore della rassegna Scienza sotto le stelle inserita all'interno del festival, appunto Passaggi Festival. Che cos'è questa rassegna Scienza sotto le stelle? Beh, sono tre incontri, tre importanti incontri che facciamo con tre autori, tre grandi autori, e dialogheremo con loro. Il primo di questi incontri sarà con il professor Piero Martini e sarà fatto dal nostro magnifico rettore, il professor Graziano Leoni, che dialogherà e discuterà sul suo libro Storie di errori memorabili. Il secondo incontro invece è quello che avverrà il giorno 28 giugno, dove sarò io a dialogare con Marco Malvaldi. In questo caso il nostro interesse sarà per il suo recente libro 12, un numero che veramente ci presenterà delle cose straordinarie. Il terzo di questi incontri invece sarà curato dal professor Guido Favia, che dialogherà con Giorgio Volpi. Il titolo del libro che discuteranno insieme è La natura lo fa meglio e ci spiegheranno che cosa fa di bello la natura. Vi aspettiamo quindi tutte, numerose e numerosi, a Affano, in provincia di Peso Rubino, dalle 26 al 30 giugno 2024. I tre appuntamenti saranno appunto il 26, Piero Martini, il 28, Marco Malvaldi, il 29, Giorgio Volpi. E se avete ancora qualche curiosità e volete conoscere nel dettaglio il programma del Festival, potete andare sul sito web e cercare passaggifestival.it. Vi aspettiamo numerosi, Affano!